Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator Oggi continuiamo la nostra avventura attraverso questo gioco e scopriremo quali sono stati e quali sono gli aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti rilasciati nel gioco Ciao a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con Ranch Simulator oggi vedremo come è stato l'ultima migrazione del gioco Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Ranch Simulator oggi vedremo come è stato l'ultima migrazione del gioco della terna misa a giù e vediamo un po' così a prima kit si vede già che c'è un po' di neve speriamo che non si blocca il gioco oh c'è la neve caspiterina e lascia anche le tracce bello allora andiamo a vedere un pochettino come stanno le amiche mucche qua ho addirittura la neve c'è all'interno delle stalle ok ora vedremo il gioco il gioco il gioco e il gioco non ci lo metta più ok le prima cosa che vi ho vede è il gioco il gioco il gioco e il gioco stable. Maybe this is a Christmas version of the game. e allora ce que j'ai remarqué tout de suite c'est la neige sur le terrain et je pense peut-être ce sera la misagio de la période de noël mi voglio comunque oh sentite la mucca com'è si fa sopracasso ma che lui sta finito questo è la bufera di neve allora me ne è rimasta una vediamo se è questa oh ok o forse devo ops scusa cara hai ragione ti chiedo scusa oh ecco lei che non ho munto allora 39 ah la bianchina qua eh bianchina mamma mia che vento c'è una bufera di neve qua c'è una bufera di neve qua c'è un ma ma c'è una bufera di neve qua mamma mia o meglio c'era l'erba interessante questa questo nuovo colpo d'occhio che hanno dato e lasciato gli sviluppatori del gioco a proposito queste basi basi lasciate qua dicevo il colpo d'occhio lasciato dagli sviluppatori, oh c'è pure una renna andiamola a vedere da vicino renna renna rennuccia e scappata andiamo ad accendere un po' di luci qua perché la picceluuscia mamma mia che tempesta ok allora adesso dobbiamo venire con l'auto da quest'altra parte comunque è interessante da notare come lasciano le tracce andiamo a caricare anche il cibo cavalluccio cavalluccio il cavallozzo il cavallo bianco che si chiama Napoleone riempiamo perfetto ok allora andiamo a recuperare prima ah ma questi sono pieni cash peterina ok andiamo andiamo un po' ahiaiaiai ahiaiai ahiaiai le tracce dell'auto oh ma si sente un po' più sbandacchiosa la macchina perché qua si sente tutto sto macello qua ecco la renna la renna che se ne fa la regina la reina e gira gira l'erica un bel moto i maialoschi i maialozzi i maialozzi bravi i maialozzi oh c'è la nostra scrofetta qua che è gravida ok però questo non va mai bene questo non soppatate quindi allora un attimo solo vediamo se riusciamo a mettere anche il sottofondo musicale allora questo qui un attimo oh just a moment i am trying to mix the music ok perfecto oh capparogero mamma mia poi è uscito anche il suolo che bello the sunlight hurra pip pip hurra vuol dire che si può mettere anche un altro pochettino più alto il volume della music allora ora do praticamente mi pare che si sta mangiando un po' allora vediamo un po' iniziamo a mettere un po' di ma forse sono le pale olivella boh allora io direi di iniziare a vendere a andare a vendere questa questa carne qui si sta già sciogliendo la neve oh forse hanno introdotto la season sì ma qua mi sto perdendo ho perso un attimo allora qui ma non si vide allora dovrebbe essere la strada dovrebbe essere no non sta qua allora che impressione che allora esco no infatti la strada sta dall'altra parte mi sa ma non si capisce niente la strada dovrebbe stare no qua sto nella foresta ma a nostra volta praticamente mezzo mondo qua ah ecco sono uscito troppo avanti mi sarei ribaltato almeno un paio di volte là ok andiamo un po' ottimo 1 e 6 iniziamo a recuperare 4.000 dollari ok andiamo a vedere un attimo se ci sono novità all'embo alla ferramenta qua e ovviamente tutto questo colore effettivamente mi ha fatto perdere nell'orientamento allora vediamo un attimino le novità vediamo se hanno aggiunto qualcosa let's check if there is something on you oh christmas toy a toy tree fireworks oh ci sono anche i fuochi d'artificio belli allora facciamo così mo mi sistema un attimo le borse qua così facciamo un po' di spesa e vediamo un pochettino le novità rilasciate in occasione delle festività natalizie e dell'arrivo del nuovo anno vediamo un po' cosa cosa c'è di nuovo what's new what's new what's new what's new scusate allora abbiamo intravisto gli abbellimenti per l'albero di natale e ovviamente i fuochi d'artificio quindi allora io direi di prendere christmas toy tree poi allora prendi a willow che roba è ring chrysanthem peonia prendiamo uno di questi uno di questi peonia 2 chrysanthem horse tail fire ring willow ok qua in effetti ok perfetto allora abbiamo acquistato un po' di cose asfizie come si dice dalle mie parti ditto esposito se vi trovate in roma ditto esposito ah questa deve essere la famosissima ditto esposito fiano romano polgio mirti toscalo morlupo morlupo ok abbiamo fatto anche abbiamo preso un po' di addobbi natalizi qua ecco qua avrebbero potuto mettere la traccia dei pneumatici nella neve però va bene così quindi adesso alla ferramenta abbiamo visto che hanno messo un po' di cose divertenti quindi molto legate al periodo natalizia allora la strada dovrebbe essere qua no già sbagliato la strada fa così infatti ci sono migliori ISAS ma qua hanno tolto la fermata della bus sbaglio io perciò ho perso l'orientamento no ma vanno modificata sta mappa mi sa due le cose ho perso il senso dell'orientamento eccola qua avrebbero potuto mettere ecco ci stiamo avvicinando alla farm e si sentono oh no allora vediamo un po' questi dove che li possiamo mettere no premi per tagliare l'altra questi premi per prendere posiziona qui non dimmi che ho preso questi inutilmente tienimi molto vabbè diciamo per i momenti fuori d'artificio qua ah ok questi quasi attivano ok ok e al termine della live allora faremo un po' di festa da i bought a few fireworks from Dittespositor e at the end of the stream last streaming we we will watch the show of the fireworks that we bought a me a me stop facciamo qua diciamo che fondamentalmente abbiamo preso qualcosa però non vorrei che l'albero di natale che impressione che l'albero di natale sta nella casa vediamo mandiamo dall'emporio vediamo se c'è l'albero di natale so I will check to the emporio if there is a christmas tree where I can put on it things that I bought poi è sempre eretto e qua più meno forse se va di qua no è qua è qua è qua allora andiamo un attimo dall'emporio l'emporio sta di qua quindi a sempre dritto ok vediamo se c'è l'alberello di natale così lo andiamo anche ad acquistare so we'll see if I will check I'm going to check if there is that christmas tree and I will both and and naturally I will put the things that I put at the hardware store buongiorno and 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 ho la che impressione oh milk machine ecco finalmente milking machine no iu interessante ecco questa era una novità quindi oggi proviamo cioè oggi facciamo passare la giornata e poi andiamo a vedere un po come funziona sta la macchina per mongere poi ti auguro una buona giornata se non ci vediamo tanti auguri di buon natale e felice anno nuovo bello dove sta qui mi sa che non qui ma io l'ho pagata forse è già stata nella stalla può essere mai fammi vedere un attimo una cosa se non mi sbaglio l'ho pagata eh si l'ho pagata ecco non trovo niente eh non vedo niente qui su mi sbaglio mi sbaglio ah io posso qui c'è la voilà ho cercato la macchina per extraire lì di la voilà allora place milk milk can under dump from the machine pick up the stock pick up ok we'll start milk ok quindi praticamente eh per usare la macchina mugitrice bisogna posizionare vicino ehm place the milk under the tap the front of the machine pick up the suction cup andiamo a vedere meglio sul posto ma che è qua avete tanti fili appesi si oppla l'arena 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 allora ma qua devo andare sempre dritto se ne riguarda male si ok mo dove sta sto segnale stradale mi ricordo che si girava subito a destra a sinistra perdono e si proseguì il problema è che qua questa non lascia tracci mo ci sta andando così occhio eh può imparare che qua si girava questo va dritto mamma mia che tempesto vai giù mi ricordo un po oh caccio questo qua si è a riserva con la macchina però eh casatilo oppa casatilo allora c'è un po come fungo la macchinetta mi fa gestire poi mi fa gestire no questo è un jazz cliente allora si vende questo ok poi ah può fare da sola ok ok quindi ok adesso siccome le ho già molte le lasciamo stare allora a proposito qua ci sta oh cacchio ce ne stanno due allora andiamo a recuperare adesso andiamo a continuare la raccolta della della ciccia di dei maialozzi qua accendiamo la luce quindi la novità è la macchina mungitrice o il mungitore automatico quindi si afferrano ehm i pizzi i pizzi papera per poi appoggiarle alle ghiandoline alle mammelle poi dopo si si attiva automaticamente oh ma sono le lenti allora qua vado a dormire arrivo da sto punto vista che non si vede niente qua speriamo che si metta a meno di di nevicare così copiosamente oh mamma mia adio e che giornata la schierata comunque è bello già vedere la traccia che lascia la persona al passaggio e questi stanno dormendo hanno fatto il sveglio muscolare sincronizzato abbiamo la nostra scrofetta gravida un capparocero andiamo avanti facciamo passare qualche giorno e poi andiamo a testare la macchina mungitrice appena acquistata ma guarda qui sta quando hai scostumato l'ha fatta davanti a me ma io non lo so eh maio lozzo maio lozzo maio lozzo qua vale che ho raccolto tutto ottimo quindi con l'aggiornamento di dicembre oltre alla alla neve o meglio oltre alla scusate se si può dire oltre alla macchina per mungere abbiamo anche la neve ovviamente il bug questo qui lì all'interno della stalla insomma non è proprio il massimo però è vero che non lascio le porte aperte però diciamo che diciamo che il realismo non è proprio il massimo beh dai ci sta allora qua c'è l'acqua il cibo ci sta oh un po' di sole a meno male riuscite alle nuove il sole si è presa con calma allora ma dall'altra parte ce l'ho ancora andando direi di provare a pulire qua ma ma mamma mia come so crescendo i muri in testi maialozzo si vede che il cibo che gli da ziotab è buono qua è il cibo di prima qualità l'acqua mettiamola qua va sempre un po' in cari di fotogrammi una volta avveniva nell'area dove ci sono le galline poi dopo mi sa che devo creare la casa per Rocchigno perchè devo tagliare un po' i galli dei pollai qua ok ultimamente Rocchigno o Brasileiro stiamo Rocchigno 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 gi ci 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 ok Questi la fanno continuamente Vabbè Quasi quasi Se ho cose da vendere Le vado a vendere subito subito Così libero gli armadietti Allora qua se non mi sbaglio Eh sì Qua provate non mi sbagliavo Allora questi sono da Anche questi Quindi ora mi inizio a caricare prima Iniziamo a caricare Il Le borse frigo qua Una cosa bella è vedere Da lontano quando Si stanno per afferrare gli oggetti E il fatto è che non si vedono le braccia Tese o protese verso un punto Ma si vede Una cosa che sta così Come per magia appare L'oggetto in mano Allora Allora Vediamo un po' Se c'è da vendere qualcosa Allora se non mi sbaglio si Ok Ok Formaggio Ammuffabili Ok Ora scarichiamo un attimo La macchina qua Il furgoncino Qua c'è tanto da lavorare Anzi qua c'è tanto da vendere Infatti Oggi facciamo una mega svendita qua Polpetta cruda Ok Qui sono Maiale Ok Quindi tutto questo deve essere Salsiccia di maiale Polpetta di maiale Ok Quindi questo è salsiccia No Questo è essiccato Tutto essiccato Ma non è possibile Allora Scarichiamo un po' qua Scarica e sciolo Andiamo a vendere un po' di formaggio qua Andiamo a recuperare Facciamo intanto Recuperiamo Un po' di soldi E poi ovviamente Ovviamente Un po' di ginnastica Non guasta mai C'è un po' di ginnastica Psst Oh Qua E andiamo A vendere A fare un po' di bundabaffa E poi Grazie a tutti. Ok, allora adesso iniziamo a... Ecco, vedete, quando io dicevo che ci voleva una copertura, ci stiamo evitando in questo momento di beccarci tutta la neve sulla testa. Ora vedete con le mie ozze, Questa è stata l'idea di costruire questa parte della struzione per essere proteggati dall'externa so as the rain is now or powered wind so we are covered by the roof oh gundabar eh ragazzi scusate ma non dipende da mica qua c'è una dammesta di niminut caro compadre Giuseppe Napoli mandami al resort per pagare lo scrivano e sento che non tengo il resort manca per poi lo scrivano vittacepo e vittacepo e saluto stuccio 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 e manovale camutà baren quando c'ho od c'ho od c'ho od c'ho od diceva il grande dodo e tu dici c'ho od e questo è ancora il film miseria e nobilità fanno accendere un po' di luce qua vediamo un po' se riusciamo a caricare tutto e vediamo un po' quanto ci vale anche perchè effettivamente tenerli qua è uno spreco di danaro meno cosi e anche quel poco e basta e poi andiamo a regolare quindi vendendo il il pezzo avrò avrò alcuni magari non troppo ma avrò e and save space e allora nel dubbio allora mi pare che sta da queste parti qua ecco ci è proprio andata in maestà di neve oppo bug hanno modificato questa parte si non era così si hanno modificato questa parte della map c'era c'era un altro mmm polpetta di maiale caiata c'è anche la caiata vendi vendi 2.640 ma allora ho una caiata polpetta di maiale ce l'ho maiale ok polpetta di maiale si intende crudo quindi mo andiamo a fare un po' di polpetta di maiale qua oppa la 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 poppetta di maiale le pipette allora aspetta mi pare che sia andata di qua ecco ora mi sto rientrando un po' meglio infatti ecco peccato che non abbiano messo la possibilità di poter acquistare lo spazzaneve allora visto che così mettiamo a posto il mezzo qua visto che abbiamo un bel po' da lavorare oh ho visto crinna ciao crinna curiosa mi sa che babba natale passerà sicuramente da queste parti allora quindi abbiamo detto polpetta quindi dobbiamo tirarle da qua dentro e poi cruda queste sono polpetta di maiale ok ora mettiamo da parte polpetta di maiale cruda perfetto ci sono non ci sono mai male inna che ci sono meno da fare un po' di compagnia oggi qui la 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 rennuccia la 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 ecco la parte come si diverte non si diverte in giù questa bufara di nero sta cercando riparo e se poteva stare qua sotto se è andata mi sa i polpetti di maiale in attivo però non ho capito con gli abbellimenti dove si vanno a mettere secondo me dobbiamo costruire la casa e ce la troviamo sicuramente in casa l'albero di Natale quindi credo che provo a costruire la casa e magari troverò le città di Natale con le città di Natale dentro la casa quindi sotto il nello ora provo a costruire la casa per la prima volta per la prima volta per la prima volta ma... ... ... ok ... 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 più tardi se Fanbus è in live su farming 22 vi vado a dare una mano Fanbus 08 e ovviamente restate fino al termine della live perché poi proveremo anche in antegrima credo assoluta per Ranch Simulator qui ovviamente sul canale di Dom Logistica proveremo gli ultimi gadget rilasciati insieme all'aggiornamento del mese dicembre che è appunto la macchina per mungere le mucche ok andiamo a vendere pure questo è salsicca ok quindi salame e la salsiccia vuole mi pare che chiedeva ma andiamo a vendere pure la salsiccia andiamo a facciamo un po' di spazio nel magazzino qua perché così poi passiamo appunto andiamo a andare a ehm oh che ho fatto a procedere no possiamo dire con la la produzione vediamo un attimo una cosa qua unica pecca peccato pecca peccato che la neve per esempio non si firma sul tetto delle nuove strutture qua per esempio nemmeno la si firma qui per il momento è puramente scenica la neve però magari gli sviluppatori fra qualche tempo fra qualche anno potrebbero anche farsi che la neve possa posarsi su sui tetti e quindi i donk quanti hanno natavo babbo natavo non so quale albero da smette quella bella domanda dice christmas tree all'alberi natal credo che si potesse mettere solo gli alberi normali invece a quando vai mi si è in ferramenta che all'alberi all'alberi non vendono l'albero di natavo l'alberi e vedremo di organizzare magari per la mattina del 31 di dicembre vedrà se riuscirà ad ospitare il cippo 23 per l'alberi la zappa storta in questa partita sperando di poter così magari mattinata prima di poi il 31 dicembre quindi a capodanno cercheremo vedremo e vedremo un pochettino se possibile quindi faremo un una piccola una piccola diciamo così un piccolo festeggiamento sperando che possano arrivare anche altri amici streamer amiche streamer sperando di essere in tanti così potremo divertirci un pochettino 19.25 andiamo all'orario del gioco allora praticamente ogni ora del gioco corrispondono a circa un minuto di gioco di gioco reale quindi significa ogni volta che si arriva alle 20 alle 8 più o meno sono passate si sveglia se ne è riperto male alle 7 e insomma sono quasi una ventina di minuti quindi diciamo che 10 minuti si arriva a un quarto d'ora vediamo che ora si sveglia e ci facciamo meglio il conto o il conteggio comunque relativamente un minuto nel gioco un minuto nel gioco un minuto nel gioco lo metto a vista almeno quando quando ritorno non è il conteggio ai cibi? oh e? qua dire però non l'ho messo non l'ho messo devo dire Un attimo soltanto. Un attimo di pazienza. C'è qualcuno in chat che può dirmi gentilmente se la live funziona. Mi ha dato un errore, un attimo solo. Mi ha dato un attimo. E' un frattempo. No, mi ha dato che devo andare a dormire. Ok. Continuiamo la nostra produzione. Un attimo. Allora, vediamo un attimo se ci sono i convenienti tecnici. Ok. Ok, accogliamo. E andiamo a vendere. Acqua c'è un bel po' di cose da vendere. Ok. Ecco qua. E andiamo avanti al frattempo. E andiamo avanti al frattempo. E andiamo avanti al frattempo. Paraparaparapam Mammu stupiti Cavalele Signi Un beli Wackinaus Ishigina Come Zofarren Ok E allora Continuiamo Un bel Mammar Zofarren Ok Mettiamo Un po' Una Che impressione Ok Perfetto Ok Poi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a gridare. 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 ma non so perché ma si era un po imballato vici grazie per i bit buona pomeriggio buona cirqua e in questo momento mi sto facendo una bella preparazione di prodotti freschi da andare a vendere al ristorante ottimo infatti era accennato prima che poi quando è stasera venga a darti una mano in azienda ma come si chiama la tua azienda a proposito con la ferro bus spa ma stranamente il gioco stranamente per il momento questo qua sto mantenendo sta andando bene quasi quasi vado a vendere tutto quello che ciò libero un po di spazio che mi sembra un po di servono le borse figo libere quindi quasi sicuramente brusconi non sono bruscolini e scusatemi se poco ma 700 mila lire come diceva il grande però ci fanno specie specialmente per quest'anno che c'è stata una grande amoria delle vacche punto due punti ma si abbondiamo abbondando un abbondante si non sa come si dice in latino ci poi ci chiamano provinciale comunque scherzi a parte farm brusconi ottimo brusco 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 quindi salsiccia muovendo tutto che dici fanno così tranne le borse bucola lì con anzi sa che c'è di nuovo muovendo proprio tutto ma proprio tutto è scelto pazzo padrone devo liberare un po di spazio qua ora ti faccio vedere una cosa fermo su acquistare un po di fuori d'artificio qua poi dopo a fine live facciamo un test vediamo come vanno aspettiamo ovviamente che si faccia buio e festeggiamo qua festeggiamo le cose bu e quasi sicuramente devo costruire la casa mi sa mi sa che proprio che arriva il momento caro fred bus che fino ad adesso ho dormito in questa struttura del deposito con i posti in laboratorio anzi volo spostare per ritenerlo più vicino vanno che quasi quasi vende proprio tutto svendita il castello di zio tab il castello di tab il castello di tab castello in zoom e poi ti faccio vedere un po la novità allora fanbus il mio consiglio secondo me puoi farla però devi utilizzare proprio un tono di voce ma proprio minimo 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 cioè magari prima di andare in live io ti consiglio di eventualmente se riesci aumentare un po il volume del microfono e cercare di parlare più o meno con un tono di voce simile a mio anche perché io faccio così in modo tale da non sforzare inutilmente la nulla e poi ovviamente ho invitato gargalozzi però mi sono scordato di fare gli onori di casa scusami fanbus scusami fanbus ecco qua grazie per i pittorini fanbus purtroppo non so perché ma oggi Twitch mi ha dato un po' di problemi diciamo che mi ha dato una disconnessione un problema con il software di gestione qua qui presidentissimo illustrissimo proprio di te stavo proprio di te stavo pensando comunque buonasera carissimo presidente presidentissimo arem arem omribus in questo buon momento c'è il nostro amico fanbus bentornato eh mi sto abituando a fare gli onori di casa qua altrimenti se non prendo l'abitudine la bella abitudine qua mi scordo e allora carissimi sto facendo una piccola svendita allora zappa stavo pensando allora però vediamo un attimo una cosa il 31 vediamo un po' il calendario il 31 è di venerdì allora io stavo pensando di fare una cosa vedi se per te va bene dato che io molto spesso mi sentite meglio ora no se il rumore che senti sotto è la tempesta allora dicevo caro zappa se per te ci può andar bene pensavo il 31 di mattina io invece di fare siccome è venerdì ed è l'ultimo giorno dell'anno io invece di portare in live la fattoria fratelli Capone stavo pensando stare pensando di portare in live Ranch Simulator con TECON GIPPO di mattina se ovviamente ciò è possibile e ospitarvi nel mio ranch qua perché ho trovato un po' di cosucci interessanti con l'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato e quindi mi farebbe veramente piacere ovviamente tempo permettendo per voi ospitarvi nell'ultimo giorno dell'anno di mattina quindi l'orario più o meno 10-12 o 11-12 quando si avete disponibilità pure di per 10 minuti di oh che ho fatto pure per 5 minuti venire in live qua e fare un po' di no è per questo che stai perché tu giustamente tutto il giorno lavora ok e allora ti devo dedicare e allora poi è vero si si mi organizzo diversamente e allora devo fare qua sto sbagliando strada però si a proposito con l'ultimo aggiornamento qua ci sono sono sbucate delle renne e comunque i montoni come si chiama qua e ovviamente con tutta sta neve mi è difficile orientarmi e niente allora non si può fare sto pensando di fare un'oretta con con gip magari se c'è sta gip e e la cosa bella è che hanno messo anche gli addobbi natalizi qua infatti sto pensando ora non ho capito se magari ti faccio vedere anche un'altra chicca che rimanga tra di noi poi dicono che che il range è un po' pesante guarda qua cosa ci sta che cosa sono secondo me queste abbassiamoci come si fa cosa sono secondo te cosa sono queste guarda guarda il simbolino che sono che sono dimmi dimmi un po' vediamo se hai capito fermus secondo te cosa sono quelle scatolette là queste qua vedi eeeh non quello svilero al termine della live vi farò vedere qualcosina di particolare e capirete tutto allora qua però dovrei farmi uno stanzino dove dovrei mettere al deposito tutte queste cose qua che effettivamente oh è un po' scumbina ragazzi quasi quasi metto qua dietro ecco qua mi sentite mi sentite ancora in chat mi sentite prod è pronto? speriamo di si OH andiamo a terra ok, ora accendo discord così ci facciamo due chiacchiere coppa discord un attimo solo eccolo qua mi sentite giusto su mi sentite qui su yuppidoo mamma mia come si sta sedendo questo ecco qua io sono in discord oh meno male ma prima non mi sentivate la neve diciamo che semi realistica nel senso che ora ti faccio vedere una cosa ok perfetto guarda ti faccio vedere una cosa allora adesso ci passa a piedi che avviene la la il compattamento compattazione con la cosa lì con il peso piuma video lab ora ti faccio vedere una cosa ora ti faccio vedere una cosa quando ci vado con la macchina cosa accade whatsapp come dicono come dicevano forno blondis ora ti faccio vedere il peso il peso piuma lascia le tracce invece l'auto non tanto non solo ma qua è diventata anche complicatuccio tra l'altro orientarsi perchè senza vedere l'asfalto qua bisogna andarci a memoria infatti sono uscito un'altra volta fuori dall'itinerario mi sa allora mi pare che no dritto qua no sbagliato a fianco ehi non si anche uno come me che ha un forte senso dell'orientamento qua con sta neve che è tutto quale oh cacchio e qua sto rimanendo a piedi non c'è la miseria qua c'è la miseria meno male che ho guardato la lancetta eh sì la delorean whatsapp meno male che sperando che non rimanga a piedi a qualche metro dal distributore qua ma è vero ero proprio scordato di fare piena la macchina qua ah ottimo quella sta nella baracca là del del cacciatore poi c'è una novità è uscita finalmente la macchina per mungere le mucche e poi finisco qua vado a vendere quest'altra roba poi faccio passare la nottata e e insieme a te insieme a fan boost non so chi ci sta in live e e proveremo la macchina per mungere la mucca eh in funzionamento è un po' come lo storditore quindi devi prendere ehm la parte dove ci sono i sistemi dove c'è il sistema per e queste non hanno pagato la luce e ma queste accendete la luce e se vi vi strelle ehm e dice io che mmm mi sono scordato quello che stavo dicendo e e quando sto concentrato a fare cose comunque vedremo come funziona ecco ora mi sono ricordato boh vediamo se riusciamo ad arrivare a casa c'è ad andare la strada più o meno ma ricorda ma scendere il problema Christmas dream pop pop ecco qua eh però guarda facci caso la tempesta di neve la senti solo quando ti avvicini alla alla struttura ancora un po' ti avvicini alla ranch quella parte restante niente non ti senti proprio boh ci andiamo a cucca e andiamo a mungere le mucche bye oh pup oh oh o la nivi casassi solo mi ci va eh 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 effettivamente allora intanto fammi controllare i granai, quasi tutto a posto oh c***o appena in tempo, speriamo che sarà tutto a posto qua, mamma mia meno male maiozzo ecco la miseria è ritornata un'altra volta l'emergenza hai visto quanta neve? poi ti facete anche un'altra cosa una cosa strana che però dai ci vuole anche stare voilà ecco il moffino di pulire c'è la neve nella stalla ma è vero che uno l'ho lasciato aperto però mamma mia dai dai hai capito eh? ahahah poi vabbè ci sono alla fine della live utilizzo questa ma per voi se hai mai capito che cosa sono questi? cosa sono secondo te? ti faccio vedere un lato dell'etichetta qui là fuori Daniele carissimo buonasera benvenuto in l'IVES come dicono gli inglesi how are you? e come si dice un apple come stai Daniele? oh anche tu sei un collega Zappa se vuoi io sto in in Discord Daniele secondo te cosa sono questi qua? poi vedrò di farli lo scopriremo a fine bravo ahahah io perciò ho detto che volevo vedere se riuscivamo a fare il 31 o con te o con Gippo la live di fine anno qua nel nel range di di zio Dab proprio per questo fatto qua esatto si le batterie però andiamo a capire una cosa questi musoli addobbi per l'albero di Natale ma con la vaga impressione che mamma mia che tempesta allora premi tieni premuto per posizionare ah ma questo dici no e allora mi sa voglio mi sa che faccio la la pazzia e mi sa che costruisco casa ragazzi mi sa proprio che è arrivato il momento allora io però non vorrei metterla proprio là ma pensavo di metterla più o meno qua vediamo un po' non siamo come si chiama quel gioco? Wild Chase Wild qua ci abbiamo oltre a alle ci abbiamo pure altri amigatti qua ok vai tranquillo zappa quando quando vuoi vai tranquillo ho messo un bel po' di animalette e quindi qualsiasi cosa la casetta la metterei qua sopra no qua mi sa che non va bene potrei anche metterla qua in questo spazio qua se c'entra allora cominciamo a vedere un po' i progetti dopo tanti episodi tanti episodi allora c'era una casa che c'era il doppio panico aveva anche una una cucina molto ampia ora non so se la stessa che utilizzava anche i miti caccio e Nora eccetera eccetera Nora Roby Mel nel insomma nella prima serie ok domenica così ci divertiamo allora io ti letto questo vediamo un po' oh yes oh yes ebbene sì però con questa posizione oh si è buggato pure il camion oh yes oh yes che dite va bene in questa posizione la casa o volete che la metta in un altro murky almeno quando arrivo ho anche la casetta di fronte mi fa un po' di luce ebbene come dice il mitico macho kings aspetta ma io mi sa che ha mancato un su allora chi l'ho fatto fenobus fondanile l'ho fatto il su l'ho fatto qua non mi esce fondanile lo rifaccio allora fernobus poi perfetto fondanile c'è qualcun altro in live vediamo un po' facciamo un altro su allora ok per il momento pare che siamo ah ecco hai sbagliato il comando ecco qua va apposta allora adesso quasi quasi io direi di costruire la casetta qua anche perché dobbiamo scoprire anche un po' l'alberella dove sta e quindi sono 64 alzze di legno cemento 365 mamma rogarmi metallo 140 allora metallo già c'ho qualcosa qua e c'è pure qualche assieme qua qui grazie zappa grazie per essere passato in live grazie per il messaggio in qua e tu stasera vai live giusto stasera ah sul canale del mitico sul canale di gira sul canale tuo così almeno facciamo un po' di pubblicità daniele anche tu sei uno streamer approvato sennò non te l'ho nemmeno scusa se sei uno streamer scrivi il nome del tuo canale se non è uguale al tonic name e il il gioco che magari riporti porterai prossimamente ok quindi stasera io vengo a a sputt vengo a fare un po' di tifo qua andiamo a più tardi vado un po' a dare una mano pure a fanbus su farming 22 qua e mi vado a divertire un po' pure con lui la gli do una mano a far crescere la sua azienda visto gli do una mano a divertirsi pure un po' in live ogni tanto faccio qualche live ma così per passare vabbè tu magari quando che ne so la sera sai o il giorno il giorno prima pensi di andare in live magari e mi trovi in live quando dice guardi da abito stasera faccio o domani o più o meno a quest'ora faccio la live e facciamo un po' di sponsor facciamo un po' di pubblicità pure al tuo canale quasi a me scegliamo una manina da da non non sono uno di quegli streamer che diciamo così vuole l'esclusiva per il proprio canale ciao la zeppa storta grazie per per essere passato e soprattutto grazie per il saluto allora ma qua ci ne rimangono beh metallo a zefun 365 quindi mi sa che devo andare col furgone qua dimmi che non si è buggato nooo 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 ahahahahah ooooooh ok ho capito devo farlo scendere dal tetto ahahahahah incredibile oh mamma mia è rimasto è rimasto è rimasto è rimasto ingastrato è rimasto ingastretto guarda dove è ingastrato ma come si fa ecco che cos'era tutto quel rumore ah avete ora ho scoperto che cos'era quel rumore nooo hai capito che cos'era quel rumore ecco cos'era non ci posso ridere c'è tutto quel casino a fine puntato scoperto che cos'era guarda un po' e infatti mo' ma mo' in tutto questo io me ne riesco a uscire rispetto per chiudere le porte qua mannaggia per chiudere come si fa? qui mi sta confondendo con mi sta confondendo con oh vai giù 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 vai giù 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 dai dai su su dai che prossimo è tu su no no si ingastrata si ingastrata di nuovo non è possibile oh finalmente però mo' si schiaccia un altro altro adesso mo' si ingastrata su per mettere in moto questo è il blocco questo è il blocco no dai non è possibile queste se la so non sono le comiche cioè come si fa? vabbè intanto recuperiamo un po' di materiale qua coppola 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 metallo ecco cos'era quel macello quel quel casino tutto quel frastuno e ragazzi uno salvatore casettini gialli intanto qua il temerario bello però il furgone così messo in modi ahhh vediamo un po' no? dai catti giù il problema è che se io lo raddrizzo questo modo va a finire l'assurro un'altra volta oh ecco lo sapevo no beccata non si può reinpostare niente qua un'altra volta. Dai su, su, al prossimo quando si c'blocca. Dai, serv serv! Dai, dai, dai che ce la fai! Oh, finalmente! Ci siamo riusciti. Ecco, quindi tutto questo, tutto quel casino che si sentiva prima, tutto il burtello era sto camion. Allora, andiamo a prendere le barre di acciaio, legno e cemento molto ful. Mamma mia, non si capisce niente, non si capisce. Era una notte buia e tempestosa. Beh, che tempesta. Voilà! Opla! Abbiamo preso il palo. Uh, che fare c'ha? Opla! Amma mia! Andiamo. E quindi alla fine tutto quel macello, quel frastuono, era il camion che si era buggato. Ma tu guarda un po'. Oh, 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 oh! C'è ghiaccio! 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 Ah, ragazzi! Epico! Veramente epico! Epic fail! Allora! 360 se mi sbaglio di... Di cemento! Giusto! Giusto! Allora! 365 di cemento! Ok! C'è ghiaccio! A cemento! 360! Quindi... 8.5 parò 8.40! Poi... Prendiamo... Assai di legno... Ecco! La casetta c'è ghiaccio! 10.000 costaranno un po' di soldi! Prendiamo... 10 di questo! 10 di questo! E visto che ci troviamo... Ci roviniamo! E facciamo... 30! Ecco qua! Acquista... Ah! Sono 3.000 auto! Cazzo! Crede... Mi sarebbe venuto un capitale! Ovviamente... I fuochi d'artificio... Li trovate... Dalla ferramenta! Però se volete... I fuochi d'artificio belli... E vi trovate nelle zone di Roma... Roma Nord vi consiglio... La ditta Esposito! E una famiglia di napoletani... Che vende... I fuochi d'artificio... E soprattutto... Se volete fare bella figura... Durante i vostri eventi... Che siano sportivi... Sono anche... Molto molto specializzati... Con gli spettacoli... Piro musicali... Non so se il termine sia esatto... Comunque... Riescono a fare la sincronizzazione... I fuochi con... Con la musica... E poi ovviamente... Parliamo anche di... Di un personale... Preparatissimo... Quindi... Oltre alla vendita... Ehm... Vi permetterà... Insomma... Di fare belle figure... Durante i vostri eventi... www.dittesposito.com Le sedi sono... Appoggio Mirteto... Poi... A... Affiano Romano... Un'altra... Sede sta... E... E zoom... www.dittesposito.com E trovate tutti i riferimenti... Capena... Giusto... Mi ero dimenticata... Capena... Ci siamo quasi... E... Quante ci è costata... Sta casa... Non tantissimo... Mi sarei aspettato... Un salasso... Invece... Mi ha fatto buttare... L'asso... Concrete... Le concrete... Hatchman... Meno male che... Abbiamo comprato il... Camioncino... Qua a proposito... Questo camioncino... Come sta a livelli... Deseo... Anaffata... In conclusione... Che cosa abbiamo fatto... In questa... In questa live... Abbiamo... Prodotto... Polpette di maiale... Poi abbiamo fatto... Abbiamo acquistato... Un po' di... Ehm... 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 Di materiale... Abbiamo acquistato... Ehm... Ehm... La... Il macchinario... Per... Mungere le mucche... Automaticamente... Che a breve... Proveremo... Poi abbiamo... Stiamo costruendo... Dopo... Non so... Quante... Puntate... Meglio... Pardon... Quante... Live... E quante ore di gioco... Finalmente... Sto costruendo la casetta... Qua... Che cos'è qua... Oh... Bellino... Che cos'è... C'è una linea qua... Che cos'è... Hanno fatto... Wow... Mo' ci ho fatto caso... Cacchio... Bellino... Ma è uno scherzo questo... Is this a trick? Pazzo... Mo' ci ho fatto caso... Premi e per usare... Vabbè... Andiamo... Ah... Mi vado a sto punto... A completare... La... La costruzione della casetta... E poi... Io direi quasi quasi... Conservo quei fuori d'artificio... Ma no... Dai... Visto che... Con la casa nuova... Festeggeremo... Casa nuova... Anno... Che abbiamo... Costruito dopo tanti e tanti sacrifici... Finalmente avremo una casetta... Dove avremo probabilmente anche... Quantopron... Con la zona di natale... Nata... Nonato... E adesso... Quindi noi siamo vendillamente la cazzola... No v台... Centro di Cochons... O каким... Chนсти una... Vend ehle cosa... Viac Hermano che ci viene... Voglio le camion... G 마�remalsi... bloqué dans un mur là bas on a acheté un peu de feu d'artifice on a eu un peu on a tourné un peu puis on a nous avons pratiquement pas fait on a pas on a fait pas de grand chose alors je vais me mettre un attimant quoi je vais dire un attimant cette porte ça c'est bon d'abord bon d'abord bon d'abord ok ok va bene quanta stiamo cento cento sessantacinque mi pare che ne ha preso qualcosina in più mi sa eh credo e spero eh qu'altrimenti 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 e scambiarsi un po' d'amore stando bene attenti però di non farlo passare ma poi per adesso no e questa è una canzone abbastanza da data di Eros Ramazzotti eh se non ricordo male l'album era cosa della vita se non ricordo male hoppola che stella sei punta un dito in mezzo al cielo e dimmi se vuoi ballare più forte tutta la notte non ci vedo niente di male di disimpegnarsi ma dove ho mancato? dove? dov'è che manca? un buon cervello per capire dov'è che manca? no dimmi dimmi che non è così no dai ci manca forse legna è finita fammi dire un attimo una cosa allora allora che ci manca? asse di legna una? e dove deve essere messo quest'asse di legna? no non dimmi che è bugato mannaccio e io vago e' e' io vago e' la macho king buonasera carissimo ben bentornato in livez 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 mannaccio qua mi sto sciervellando Non riesco a capire Dove devo andare a mettere Il pezzo qua Mannaggia Dove lo devo andare a pezzare? Ma questo mo' mi fa Mi fa sbattere la testa Allora, dove è qua? No, non è qua Non è qua E dov'è? Ma proprio l'ultimo pezzo Dai, mannaggia Ma dove lo devo andare a mettere? Wow, uno solo ne manca Ai 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 Mera male che sei arrivato Questi fanno finta di distrarsi E poi per una tavola qua Mo' devo buttare giù la casa Ma non lo so Dai Ai 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 E vabbè dai allora Visto che siamo così Approfitto ancora Per ringraziare tutti quanti voi che siete stati In live Vediamo Aspetta un momento Giusto Carico Così non roviniamo niente Lo facciamo RUKVK Eh Giustamente Altrimenti Mi sarei scervellato Speriamo questo Mo' carico Perfetto Ok Mo' K Ro Gelo Macho King Perfetto Cerchiamo di non fare errori qua Andiamo RUKVK Quindi Qua Bravo Bravo Zia Tapp Qua Oh zia Oh zia Andiamo qua Ecco Ecco dove mancava Ma tu guarda un po' Era la scala Era Mamaccia Vabbè dai Ecco Hai visto Macho King Dove era Ehi Ma tu hai capito Quanto mi è costato Anzi In realtà Credevo che mi sarebbe venuto a costare Molto di più sta casa Invece mi è venuto a costare Di materiale Meno di 3.000 dollari Ed è La casa Più grande Della Da ciò Che qui non siamo in america Qui siamo a napoli E come si dice Cac Mission Fest Ha capito? Esattamente Meno di 3.000 dollari Che era quel gradino Là dietro Una tavola Una tavola Una tavoletta E mi ha fatto rifare Tutti il lavoro Vabbè Fortunatamente Non ho sprecato soldi Quindi Già da questo punto di vista E' un'ottima conquista Ho preso La casetta Più grande Sai per quale motivo Perché in realtà Da quando ho iniziato La serie qua Con Ranch In realtà Non ho mai Dato peso Alla casa Infatti Ho sempre dormito Nella brandina Quindi Diciamo che Ho dato La priorità All'azienda Anche se Tu Come giustamente Tu dici Se non spendi E spandi Non ti spandi Non hai tutti i torti Ma in questo caso Qui diciamo che Ho spragno E guaragno Come si dice A Napoli Quindi Mi sono assicurato Prima di Avere Tutto quello Che mi serve Oh Dai Sì Eccola casa là Bellissima Ottimo Era la casa Che volevo Esatto Dove qua Nei primi episodi Roby Mel Tutti quanti Ci facevano I prodotti Ah Finalmente Ottimo Io è vero Esatto No Accendiamo la luce Qua fu Si sta accendo Ma sta luce Dove sta accendo Sta luce qua Oh Abbiamo fatto anche No Non sta accendo Ma guardano Poco Si accende qua Oh Ma accendo il cammino Va bene Dai Almeno Una soddisfazione Ce la siamo tolta L'unica cosa È Caro Macho King Approfittiamo Visto che ci sei tu Nell'ultima Nell'ultimo aggiornamento Hanno Hanno inserito I fuji d'artificio Qua E allora Li posizioniamo Aspettiamo che faccia notte E poi dopo Facciamo un po' di festa Allora Uno giallo Un altro qua Li accenderemo Una per volta Poi mettiamo Un rosso Mettiamo Un blé E il giallo Dovrebbero essere Le peonie L'unica cosa Che non sono riuscita A capire Dove che si mettono Questi abbellimenti Cioè Praticamente Hanno inserito Ste cose Che chiama Christmas tree Però Vediamo Aspettiamo Fammi resi Mi avvicino alla casa Questi mi li fa mettere Da qualche parte E un po' Forse vicino a Camino No Non mi fa mettere L'alberello Qua non l'aveva messa Ehi Però questa è la casa Che ho sempre desiderato Qua nel gioco Così quando qualcuno Vuole venire In multiplayer Anche tu caro Magic King Vuoi venire in multiplayer Qua ci sta posto Per tante persone Abbiamo posizionato Abbiamo posizionato I fuochi d'artificio Qua Buone frattempo Vado Allora ecco Andiamo ad utilizzare Il macchinaio La mungitrice Automatica Che fa parte Dell'ultima mod L'ultimo aggiornamento Che hanno Fatto Gli sviluppatori Quindi Vieni qua Vieni qua Bolli Ecco qua E questa Adesso inizia Dovrebbe iniziare Aspetta Forse ci vuole il switch Vediamo un po' Accendi Beh Non dimmi Che sia un po' Accotto Ma tu guarda Un po' Perché fa così Vediamo un po' Ma non è che ci vuole la corrente Con l'elettricità Ah non è Shhh Premi E per accendere Vediamo un attimo Nel tutorial Se ci sta scritto qualcosa Glossario Allora Salvagiochi Addestramento No Qua non ci sta Salvagiochi Animali Mucca 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 Mh Mh Vabbè dai Mi ha fatto spendere 700 euro Inutilmente Lo facciamo Alla vecchia maniera Devo studiarmi un po' Offline Come funziona La mungitrice E allora Riapprofitto Oh A posto Per ringraziare come sempre Tutti quanti voi Come sempre Mi venite a fare compagnia Caro Macho King A te All'amico Ora La lista è molto lunga Fortunatamente Per questo canale Approfitto per ringraziare Coloro che si iscrivono al canale Quando sono in replica Norte Sia su Twitch Che Coloro che Mi seguono su YouTube Fanbus Carissimo Mostro Sto quasi per terminare La live E inauguriamo E festeggiamo La casino Nuo Ebbene si Dopo Non so Quante Quante Volte Anzi Quante live Ho fatto Mi sono deciso A costruire Una bella Casina Anzi Una casuna Esagerata Queste hanno lasciato A scuolecce Una me ne manca Eccola Era lei A disposizione Fanbus Io qua Ho quasi finito Perfetto Allora Approfitto Come sempre Per ringraziare Tutti quanti Voi Per avermi Fatto compagnia In questa lunga live Adesso Però Prima di chiudere La live Andiamo A festeggiare Faccio vedere Prima la casa A Fanbus Che eccola qua Ragazzi Non ve ne andate Perché adesso Festeggiamo Con i fuochi d'artificio Offerti Dalla ditta Esposito Di Fiano Romano Ecco Cosa servivano I dischi Nooo Ora ho capito Why you Ecco I dischi Vanno messi qua Eccola qua Allora Per il momento Non vorrei Mettereli Perché Andiamo un po' Veloce Luce Chez Come si fa Come si è bloccato Ok Ah Quindi sono I due dischi Allora Questa è la cucina Questa è la seconda uscita laterale Poi qua c'è il deposito Per le carni Qua Gli essiccatori Questa Questa casetta qua Quando la vedevo Che la portavano Nora La portava Nick Miticaccio E Robby Mell Diceva Questa è bella Sta casa La devo comprare Pure io Poi qua C'abbiamo La saletta Con il televisore La console da gioco Degli anni 70 Abbiamo Poi Diverse camere Da letto Quindi quando vorranno Venire a darmi una mano I multiplayer Potranno farlo Qua c'abbiamo La stanzetta Recreatur Qua c'è la stanzetta Degli adulti E adesso Cari ragazzi Iniziamo a Festeggiare Apriamo le danze E iniziamo Ad accendere Il primo effetto Occhio Vì Non fammi fare Oh Oh Debello Vì Cos'è tutto Oh mamma mia E che pacco Togliamo questo Allora Togliamoci Lei con quegli occhi Mi spoglia Spogliatoio Ah però Peone Questo è peone Sì Quello Quello lì Via Quello dei Torelli Peone Oh la bella L'animazione Oh Bella Questo E' Ci lasciamo Ci lasciamo In grande Destino E non so Costate nemmeno Tanto Dall'altro Eh Partì Pup Bello Questo è un effetto Crackling Questo crack E allora Approfitto Per ringraziare Tutti quanti voi Lascio l'ultimo Fuoco In chiusura Quindi Grazie mille A tutti Per voi Che state guardando Questo video Di replica Non lasciate Il canale E Continua La programmazione Poi Se siete interessati Come sempre Ad acquistare Questo gioco Altri giochi scontati Multi piattaforma Nella Descrizione Del video Sia qui Su Twitch Che su Youtube Troverete link Per acquistare I giochi scontati Fino al 70% E ovviamente I miei canali social L'appuntamento Con Range Simulator Per la settimana prossima Quindi Restate sintonizzati Perché Al termine Del papillo Faremo esplodere L'ultimo Fuoco d'artificio E quindi Andiamo avanti So Thank you so much For watching This video This live streaming I hope You have enjoyed This live streaming If you are watching This video On rerun Please don't leave The channel You will watch The continuation Of the Programmation The continuation Of the channel You can watch This video On YouTube On Friday Thank you so much Please stand by And if you are interested To buy this game Or other games With low price Up less Minus 70% You will find The links In the video description Here on Twitch And as well On YouTube Alors Merci beaucoup A tous Pour m'avoir Fait De la très Bon compagnie Notre rendez-vous Avec Ranch Simulator C'est pour la Semaine prochaine Vous pouvez regarder Cette vidéo En réplique Ici sur Twitch Et vous allez Le trouver Sur YouTube Vendredi A midi Si vous êtes Intéressé A acheter Ce jeu A 3G A prix réduit Multiplatformes A prix réduit Jusqu'à moins 70% Vous allez Trouver Dans la description De la vidéo Soit ici Sur Twitch Et que Dans mon canal YouTube Vous allez Trouver Tous les liens Et naturellement Vous allez Trouver Aussi Les liens Pour suivre Mes canals Social Média Merci Beaucoup Et à Le Réjou Non Bon 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 S'il vous plaît Ne quittez La vidéo Si vous êtes En train De regarder Cette vidéo En réplique Vous allez Regarder La continuation De la programmation Du canal Merci Beaucoup Et alors Voyons Comme il me semble Vous ringraziez Ma compagnie Que m'a fait Durante Questa Direct Oggi On m'a fait Praticamente Niente On m'a fait Une poche Derivade La carne Di Rébouche Luce On m'a fait Quelques Saussiches On m'a fait Il purpet La m'a Onnout S'il m'a Costruite Una bella Casarella La casarella Che volevano Noi Amma Cattato Puri I fuori D'artificio E allora Voyons L'appuntamento Con Ranger Simulator Pa Settimana Prossima Sempre I tre E mezzo Grazie A tutti Quanti Si Stato Guardando Che Sto Vite In Replica Non Vani At Che Continua Programmazione Grazie A tutti Thank you So much Everyone Merci Beaucoup Opla Vai Stato Buongiorno Ciao A tutti Buongiorno